Eri Fiusi ASMR Ciao a tutti amici fiusini Come state? Spero tutto bene Oggi andremo a fare un super super video Schiuma, 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 schiuma Però intanto andiamo a mettere la nostra carta velina L'andrò a mettere sul microfono E quindi spegnerò un attimo l'audio Perché sennò si sente troppo e da fastidio Arrivo eh Eccoci qua ragazzi Andiamo ad agitare la nostra schiuba E vi auguro un buon ascolto Ricordo L'andremo anche a colorare questa schiuba Insieme La coloriamo 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 Schiuma, 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 schiuma un po' di gocce 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 e le andremo a colorare insieme pronti ragazzi? buon relax e plon plon e plon plon e e e u po 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 Sì. grazie a tutti ahhh Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.